Ho visto solo ieri un film chiamato Divergent, uscito nel 2014 e basato sui romanzi di Veronica Roth. Il film parla di una società futura, distopica, in cui ognuno sarà inquadrato in una fazione, gli intrepidi, gli abneganti e via dicendo, e all'interno di questa fazione dovrà vivere la sua vita spesso in forte competizione con le altre fazioni. In questo futuro distopico, come detto, naturalmente le cose non vanno poi così bene e chi vuole saperne di più può guardare il film o leggersi il libro. A me il libro e il film serve da riflessione se penso alla Chiasa Cattolica, in cui è molto di moda etichettare le persone come progressisti, tradizionalisti, ultratradizionalisti, conservatori e via dicendo. E come nel film, questi gruppi sono fortemente in competizione uno con l'altro. Certo è comprensibile che si hanno idee divergenti appunto sul modo in cui la Chiesa dovrebbe funzionare e il criterio per capire se le cose sono giuste o sbagliate non è il nostro criterio, ma è la loro adesione alle fonti della rivelazione se esse sono per la gloria di Dio e, in conseguenza, per la salvezza delle anime. Quando mi chiamano in un modo o nell'altro io rifiuto sempre le etichette, anche perché le sento come infedeli. Se è pur vero che le mie idee si identificano più con quelle di una certa fazione, e questo è comprensibile e anche evidente, non è perché mi piace di far parte di un certo club, ma perché ritengo che esse rispondano di più ai criteri di cui ho riferito sopra. Nel film i divergenti, coloro che hanno caratteristiche che non appartengono ad una fazione specifica, fanno paura e devono essere addirittura eliminati. Ma la realtà è molto differente anche nella società civile come del resto nella Chiazza Cattolica. I cani sciolti fanno paura, a meno che essi non siano comunque, anche se di nascosto, servi del sistema e della narrazione dominante che appunto servono comunque in un altro modo. Io ritengo che essere cattolici significa essere fedeli all'insegnamento perenne della Chiesa, non alle mode. Se questo causa persecuzione ed isolamento, dobbiamo sapere che non siamo i primi e non saremo di certo gli ultimi. Decidiamo dove vogliamo accumulare i nostri tesori, se in cielo o sulla terra.